Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze-Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e BV111 e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Infipili, code per lavori, tra Empoli e Samminiato in direzione mare, verso Firenze, code a tratti per traffico tra la Strasigna e Firenze-Scandici, in carreggiato opposto a rallentamenti all'altezza di Firenze-Scandici. Uno sguardo al traffico ferroviario, ricordiamo che per oggi, 8 febbraio, è stato proclamato uno sciopero che interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato della Toscana, così suddiviso. Personale mobile dalle 9 alle 17, personale vendita e assistenza dalle 3 della mattina alle 2 di domattina sabato 9 febbraio. Sui nostri canali social trovate l'elenco dei treni previsti in partenza nelle prossime ore. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!